Buon compleanno a Giacinto, cominciamo così. L'abbiamo ai tu, diciamo così, srotolato questa bellissima foto che vi ha accompagnato in tutto questo ritiro. Il nostro è un pensiero sempre affettuosissimo, è doveroso questo giorno del suo compleanno. Sempre, sempre con noi, momenti di difficoltà, momenti di gloria, sempre con noi. Non dimentico mai il giorno quando sono arrivato all'Inter, la presentazione con il grandissimo signore. e lo so che mi voleva bene, mi voleva bene, ma tanto, tanto. Niente, come ti dicevo prima, grazie per tutto quello che ha fatto per l'Inter. Grazie che è con noi, come ti dicevo, soprattutto nei momenti di difficoltà. Senti Dechi, passando in maniera molto rapida come si fa nella vita d'oggi, dà una cosa così importante al calcio, che è altrettanto importante, è quello che state vivendo in tutti i giorni. Sembri sempre a tuo agio quando si formano le nuove squadre al centro del campo, che ci sia un allenatore, che ce ne sia un altro, che ci sia un modulo, che ce ne sia un altro. Anche in questa Inter, che sta nascendo, ha visto il mister a 4, a 3, chi se ne frega, tu sembri sempre a tuo agio. Cerco, mi conosci, cerco sempre di dare il massimo. Dopo, se piace al mister o no, può capitare di stare fuori, ma devi essere sempre pronto, disponibile, concentrato, con tanta voglia. Anche questo, il ritiro, cerco di dare meglio. Di dare meglio e sono sulla buona strada. Sto pian piano uscendo, sta passando anche la stanchezza. Mi sento molto meglio che dall'inizio. Arrivano le partite, sono sicuro che dopo un po' di tempo tutti giriamo molto, molto meglio. Qualcuno parlava di un ritiro un po' sottotono, perché mancavano i brasiliani, gli argentini. In verità, basta vedere i nomi vostri che sono qui e basta soprattutto vedere un'invasione nera azzurra che in Val Rendena non avevano mai registrato. Non era mai successo che un ritiro portasse decine di migliaia di persone vicine al campo. 10.000 e più. Molti di più, ci hanno detto. Significa che apprezzano questa squadra, che la vogliono bene. E con loro, anche questo è il ritiro che è faticoso, non è che è sottotono. Stiamo lavorando alla grande. Ci danno una mano, ci caricano e ti dico, sta andando tutto liscio. All'inizio avevo un po' di timore, neanche paura, ma come andrà con il nuovo ministro di Quasilo. Invece va tutto liscio, stiamo preparando, mi auguro, una bellissima stagione. Anche lui si è dovuto dividere tra tattica, tra porte chiuse, tra migliaia e migliaia di persone che volevano vedere ogni singolo minuto. Non è semplicissimo spiegare ai tifosi, però siete riusciti a fare tutto. Qualche coro che non vogliamo, ma va bene, li capiamo. Perché erano i weekend, dovevamo lavorare, per esempio ieri mattina, dovevamo lavorare un pochettino tranquilli, preparare la partita. Ma va bene, li capisco. Hanno fatto tantissimo sforzo, tanti chilometri per vedere la Inter. Niente, di nuovo li ringrazio a tutti. E ci vediamo a San Siro. Che impressione hai per la Supercoppa? State già cominciando mentalmente a pensarci? E te capita? Perché tu sei uno che queste cose le vive in maniera anche molto... Quindi è ancora presto, molto presto, ma ci pensiamo. Stiamo lavorando per quella partita. Non so perché si gioca a 6 agosto, si poteva giocare anche più tardi. Non so perché si gioca a Pechino, si poteva giocare a San Siro. Ma va bene, hanno deciso così, ci hanno rubato un dieci giorni di vacanze minimo. Ma stiamo pensando, stiamo lavorando per quello. È dietro l'angolo la partita e sarà difficile. Sarà un grande derby storico, che non si è mai giocato una Supercoppa tra Inter e Milan. E vediamo, non si può mai dire chi vincerà un derby. Milan può essere forte, perdere come l'Inter, può essere favorita. Il derby per quello è bello. E chissà che non arrivi uno dei tuoi soliti colpi di genio. Magari, magari un calcio d'angolo, respinta fuori e che arrivo. Grazie. Grazie.